Buongiorno ragazzi, qui Ciccospedale, siamo qui a un nuovo video, sono in pausa caff... pausa caffè, pausa, mi dico, cliccate come volete Ho poco tempo, quindi faccio questo video velocissimo, allora... Allora, l'Inter ha quasi preso, ma che solo la conferma della Tecmodrid... Vidi, eh sì, Vidi... Gudin E tutti esso veneristi stanno, non dico rossicando, stanno girando la frittella Nel senso, tutti esso stanno dicendo che Gudin, passiamoci al giorno, farà la fine di Vidi Dice, ex giocatore dell'Inter, ex giocatore del Manchester United, della stagione 2000, qualcosa che non mi ricordo più Che dire, allora, Vidi non era un top player tempo fa, e quindi è ovvio che era andato via perché ormai era vecchio Gudin è uno dei 5 milioni di difensori del mondo, quindi il prossimo anno sarà come Ronaldo Cioè, che viene in Italia a giocare in una squadra italiana E ovviamente sarà un po' più dibulito, però è sempre un giocatore fortissimo Noi, questa stagione che sta finendo, o la prossima dobbiamo vendere almeno due o un difensore I cugini, la prendono come se fosse niente, diciamo che adesso loro dicono Eh, ma tanto farà la fine di Vidi, mandano anche le meme con Vidi, dico, Vidi ci conforme Cioè, quindi cambiano, cioè, nel senso, possiamo stagionare per niente un pippone E sempre dicono, è meglio romagnoli perché sono giovani, ragazzi, romagnoli e giovani Quindi a 3 di Vidi ci sono un top player Cioè, a Milano di sicuro no, però, beh, facciamo stare i dettagli Ehm, poi la cosa che mi fa ridere è che loro, quest'estate, l'estate scorsa del 2018 Dicevano Vidi, dicevano Good, Good, Goodin, sicuro a Milano, non è venuto Adesso, quando mancava due mesi, un mese alla fine della stagione 2018 Cioè, quando l'invernale finisce E dicevano che lo prendevano come noi, ha preso 0, e solo prendevano per prestazione E invece no, l'ha preso l'Inter Quindi, milanisti, mi fate ridere Perché ci sono milanisti, io ripeto, per me, quando Milano compra un giocatore Sono contento di Milano per un giocatore Boh, io non sono comunque l'interista che quando Milano compra il giocatore rido Ha ha ha, Muriel, non avete preso, non l'ho riso Ho detto, Muriel è un pippone, non l'ho detto a Milano, ha fatto quello che cazzo voleva Punto uno Ehm, Fabricas è un vecchio Se è andato al Monaco, non so perché Monaco è peggio ancora del Milano, non capisco perché Ma forse non gli piace l'Italia Può anche essere quello, vabbè E non è nato vero E i vintisti veri Che odiano il Milano, non li ripetono per cui Io diciamo che non odio il Milano Io odio il Milano quando la sfido Quando ci sono Milano in Italia, la odio a morte Poi mi fanno, cazzo a via, ci sono i milanisti che rompono il cazzo a me Che sono l'interista, però Che dire, ragazzi Mi ha fatto ridere tantissimo che i milanisti dicevano che Godin faceva la fine di vidice La prossima stagione Ma il problema è che l'anno scorso Sempre in questo modo È arrivato un certo Deverei Che non sta facendo un butto campionato con l'Inter Quindi Shhh Noi l'abbiamo preso, noi non ancora E loro diranno È colpa della UEFA Che ci hanno bloccato Perché le UEFA Avete fatto i coglioni Con Minebelli E compagnia Fassone Coglioni voi, non noi E boh Voi eravate anche i cinesi Ma siete americani Quindi i vostri cinesi erano scaduti Mentre noi erano ancora Decenti Non possiamo rispondere i soldi Perché la UEFA non ci lo fa fare E giustamente c'ha ragione Voi avete più che fatto Che cazzo volevate Però voi gli dite Non è colpa dei cinesi E di Fassone Ma è colpa di Silvio Brusconi E... Gagliani No, siete sempre con le cose Che avevate come presidente Brodusconi e Gagliani Cazzo vuole dire da me E niente ragazzi Da Jackie Speyer Noi loro diranno Noi voi avete avuto Avete avuto Morà Morà Vabbè sono il mio appena che Muschiamo il nostro presidente Morò Malotta Avevamo Malotta noi Eh... Malotta no Malotta adesso è questo qua Non mi do più muschi Ragazzi Sì scrivimi Di se vuoi si chiamare Il presidente del link Che non mi ricordo più Poi sto lavorando Quindi è ovvio che Cosa di caccia non mi ricordo Di improvviso Però se voi Vi ricordate Me lo scrivetelo Poi dopo a casa Non lo cerco e lo trovo Ok? Tanto ovvio Ovviamente Dopo aver fatto anche la figu di merda Chiudo il video Ok? Da Jackie Speyer Al prossimo video Bella ragazzi Ciao ciao Ciao